Con la chimica dei colori desidero contribuire a preservare la bellezza del nostro patrimonio culturale. La curiosità mi spinge a cercare nuovi materiali innovativi. Fare scienza è un modo di conoscere le cose e di vincere le proprie paure ed essere più vivi. Ho studiato fisica per capire come funziona nel mondo e l'universo. Mi affascina a scrutare i materiali nel profondo. Ho studiato fisica per capire il mondo e la racconto per provare a migliorarlo. La scienza descrive un mondo senza confini e mi piace l'idea di continuare a stupirmi proprio come facevo da bambina. Introdurre le tecnologie innovative nella classe per preparare gli studenti alle sfide di domani. Acceleriamo la scienza. Capire come funziona il pianeta Terra. Credo nella ricerca. Amo il nostro mare, amo studiarlo per preservarlo e far conoscere anche agli altri tutte le sue meraviglie. Contribuiamo al progresso!